Siamo con Diego Giorgini e Andrea Pigato che hanno presentato al Working Capital di Padova il progetto Università 2.0 vincendo la borsa di studio. Innanzitutto diteci due parole su di voi. Diego. Sono Diego, studio informatica a Padova, ho 21 anni e mi interesso di tutto il mondo web, delle tecnologie e anche delle parti più sociali di start-up che si sta nascendo negli ultimi anni in Italia. Andrea invece tu cosa fai? Io studio fisica, ho 22 anni, mi interesso però da molto tempo di web e condivido con Diego una collaborazione che dura da ormai 7 anni. Allora, innanzitutto rispondiamo a una domanda. Che bisogno soddisfa il progetto Università 2.0? Università 2.0 risponde al bisogno degli studenti ma anche dei docenti di avere uno strumento per la didattica che sia pensato per l'università e che permetta di collaborare sui contenuti non restringendosi ai soli studenti del proprio corso ma prendosi anche ad altri atenei e altri corsi di laurea. Come è venuta l'idea? L'idea ci è venuta in quanto studi universitari ci siamo trovati alle prese con dei problemi di accessibilità dei contenuti. Cioè nell'università italiana è difficile raggiungere i contenuti. Si va increscendo diciamo dei contenuti dei propri corsi che in qualche modo si riesce a raggiungere però già quelli analoghi di corsi diversi della stessa università diventano molto difficili da andare a recuperare. L'idea è quindi di mettere insieme tutti questi contenuti anche di università diverse. Tu ti occupi nella parte di sviluppo dell'interfaccia utente. La prima domanda che mi viene in mente è questo è uno strumento che dovrà essere ugualmente utile, ugualmente comprensibile sia per studenti che conoscono bene le tecnologie del web sia per studenti che non lo conoscono sia per professori. Che sfida stai affrontando? Allora la sfida è proprio questa che i docenti universitari devono trovarsi uno strumento che è il più semplice possibile da usare. La stessa cosa vale per gli studenti che dovranno utilizzare la piattaforma in modo molto naturale e questo è quello che vorremmo cercare di raggiungere con la nostra ricerca. Durante la tua presentazione tu hai raccontato con molta chiarezza qual è il vantaggio di questa piattaforma. Ora mi domandavo, non avete paura di trovare resistenza da parte del mondo universitario? Cioè in tutto sommato la detenzione delle informazioni è un punto di forza delle persone che lavorano all'interno della ricerca. Siete sicuri che poi ci sarà questa volontà di condividere in trasparenza informazioni? Sicuramente ci aspettiamo anche della resistenza da parte di qualche professore. La cosa che però abbiamo pensato per bypassare questo problema è di far crescere la piattaforma dal basso ovvero dagli studenti che sono in realtà interessati più di tutti ad avere delle informazioni accessibili e dove è possibile anche interagire. Facendo nascere la piattaforma dal basso possiamo superare quei docenti che magari non vogliono pubblicare i loro contenuti o non sono interessati. Anche perché bisogna far capire a loro qual è il vero vantaggio e che cosa mi traggono dopo. Esattamente, sul lungo termine questa piattaforma potrebbe risultare anche un elemento per forzare i docenti ad impegnarsi nel rilasciare la conoscenza in maniera libera e in maniera più fruibile da parte degli studenti. Siamo un po' più corretta politicamente per aiutarli a condividere il loro sapere. Senti, l'ultima cosa, a che punto hai il progetto e quanto manca che sia completo? Il progetto attualmente è in uno stato di azione, abbiamo già contattato diversi studenti e anche docenti che sono interessati ad avviare la fase di test. Inizieremo a lavorarci al codice vero dei prossimi mesi e contiamo per il prossimo semestre di iniziare una fase di beta. Grazie. Grazie. Grazie.